Staccare la spina al governo Conte Bis? Falso. Noi abbiamo attaccato la spina al governo per evitare le follie di Salvini. Attaccata, non staccata come voleva chi sognava le elezioni. Per noi la legislatura finisce nel 2023. Viva la stabilità! Così Matteo Renzi nella sua e-news settimanale. L'ex leader del PD scrive anche che è falso che i suoi gruppi abbiano fatto il governo con il Movimento 5 Stelle solo per le poltrone. Avessimo avuto questa idea lo avremmo fatto prima dell'assegnazione degli incarichi. E soprattutto a noi interessano le idee, non gli sgabelli. Renzi ha anche assicurato che non parteciperà a nessun tavolo perché non avrà alcun ruolo formale. Si può fare politica anche senza reclamare posti al tavolo o a tavola. Basta avere idee, ha affermato.